Musica Bentornati ad una nuova puntata di Storie e Persone Ci troviamo con Matteo Piloni, Assessore al Turismo della Città di Crema Benvenuto Grazie mille Iniziamo subito con la prima domanda Parliamo della Cascina Pierina Qual è il suo futuro e come lo vede? Il futuro della Cascina Pierina, o meglio, i futuri potrebbero essere tanti Usiamo il condizionale perché è una partita delicata Ricordiamo che è stata acquisita dal Comune di Crema verso la fine degli anni 90 All'incirca Poi si era provato con una ditta di Parma Si chiamava Foglia, se non ricordo male A rilanciarla con un progetto di un nuovo impianto sportivo Purtroppo quella ditta poi era fallita E quindi da là è tutto fermo Noi stiamo cercando, e chi prima di noi ovviamente Si cerca sempre di metterla sul tavolo E cercare di smuovere le acque per trovare dei privati Avevamo avuto nelle ultime settimane Soprattutto verso la fine dello scorso anno Due o tre privati che erano interessati Uno di questi era la Cicrema L'associazione appunto del calcio crema Che stava portando avanti un progetto Poi tutta una serie di incomprensioni Diciamo così sono naufragate Il senso della Pierina è quello lì Cioè restituirla alla città Da un punto di vista della fruibilità Avere una destinazione, io credo Soprattutto dal punto di vista sportivo e sociale E perché no avere un collegamento Anche con l'università Visto che siamo lì È un po' un libro dei sogni Stiamo provando a smuoverla A smuovere mari e monti Per adesso non ci siamo ancora riusciti Invece per quanto riguarda la Musalla Fa ancora discutere? Sì, la Musalla fa ancora discutere Forse un po' meno rispetto a qualche settimana fa Però io ci tengo a dire una cosa Se ne parla troppo E spesso se ne parla molto male Perché il tema è estremamente semplice Una comunità islamica Di fatta di cremaschi Perché così è Sono circa 1500 che abitano a Crema Da tantissimi anni Invece di utilizzare luoghi pubblici Diciamo così chiedendo al comune Di poterli utilizzare Vorrebbe costruirne uno da poter usare Un po' come era stato fatto nel 96 Giunta Giovinetti Lega Nord Per quanto riguarda i testimoni di Geova In via Pagliari Tra via Pagliari e via D'Andrea Umbriano Si tratta di mettere insieme Tutte le condizioni Dal punto di vista urbanistico e amministrativo La possibilità di professare la propria religione Non può essere messa in discussione da nessuno Si tratta di trovare le condizioni migliori Ovviamente quello che fa discutere Non è il tema in sé Ma è quello che porta con sé Sono fattori lontani che vanno a inquinare il dibattito Che magari in altri tempi O se le questioni diciamo così lontane Non fossero sul tavolo Non si parlerebbe nemmeno Proprio come è stato fatto con i testimoni di Geova Noi stiamo perseguendo la strada delle varianti E quindi inserire un'area del comune All'interno delle varianti in via Milano Quello è l'inizio che abbiamo sempre avuto in testa Andiamo avanti su questa strada Non c'è l'ipotesi bocciodromo Anche perché la legge ultima regionale Che vincola le destinazioni Al momento in cui vengono destinate Le attrezzature religiose le vincola Quindi non è che possiamo vincolare il bocciodromo A un'attrezzatura religiosa In quanto si tratta di un impianto sportivo Stiamo andando nella direzione fin dall'inizio È complicato però per noi I principi vengono prima di ogni cosa Invece sull'ex area Olivetti Si sta costruendo una piccola tangenziale Per la sicurezza dei camion Com'è la situazione? La situazione stiamo lavorando Nel senso che è un tema di cui si parla da tantissimi anni Ma nessuno ha mai fatto nulla Io sono diventato assessore Tra aprile e maggio del 2014 Marzo c'era stato un incontro Per rispolverare la questione Poi è cambiato l'assessorato Sono entrato io A luglio se non ricordo male Abbiamo fatto un incontro con gli enti locali interessati Lo abbiamo riproposto a ottobre Coinvolgendo consigliere regionali E categorie economiche E quel 10 ottobre Se non ricordo male la data Ma credo di non sbagliarmi Avevamo condiviso di coinvolgere Ente provincia Che nel frattempo si stava cambiando Era il 10 ottobre E le elezioni di Area Vasta Sarebbero state sei giorni dopo Coinvolge l'ente di Area Vasta Come ente di progettazione Per anche gli strumenti O comunque gli tracciati Dal punto di vista viabilistico urbanistico E l'agenzia di sviluppo Reindustria Voi sapete che Reindustria Opera sul territorio da tanti anni Anche in quel momento eravamo in fase di rilancio Dell'agenzia di sviluppo Reindustria Nel frattempo ci sono state le dimissioni del direttore Il nuovo direttore è stato nominato Credo a metà febbraio Quindi circa un mesetto fa Nel frattempo abbiamo coinvolto Quindi la provincia e la industria La scorsa settimana abbiamo fatto un tavolo Con provincia e la industria Proprio per iniziare Quest'oggi ho inviato una lettera Ai comuni Quindi proprio per dire che siamo assolutamente Siete aggiornatissimi I primi che hanno una notizia Diciamo così Abbiamo inviato questa lettera Nella quale formuleremo appunto Formale richiesta alla provincia e Reindustria Proprio di mettersi a disposizione Per costruire un protocollo d'intesa Tra i comuni interessati Che ricordo oltre a crema essere Pianengo, Campagnola, Cremosano E in parte Capralba Le categorie economiche E poi la fase di progettazione Per fare proprio un progetto preliminare Si tratta di individuare il tracciato Condividerlo Fare la variante all'interno del PTCP Nel caso non fosse già prevista Nel PTCP Di una sorta di PGT provinciale Reperirlo per quanto riguarda La normativa nei PGT dei comuni Dopodiché abbiamo il tracciato Abbiamo il protocollo d'intesa Abbiamo il progetto preliminare E poi si passa alla fase 2 Che è quella più complicata Che è il reperimento delle risorse Ma questa è tutta una fase Che fino ad adesso Nessuno aveva mai fatto Ed è indispensabile Per poter raggiungere le risorse O provare a recuperarle Se il tema è Riuscite ad avere le risorse Beh questo è un bel grosso punto di domanda Però senza un protocollo d'intesa Dove c'è scritto nero su bianco Che tutti gli interessati Vogliono fare quella roba lì E fino ad oggi non l'abbiamo avuto Senza un progetto preliminare Che individua esattamente il tracciato E il come si fa Che oggi non abbiamo mai avuto Non si possono reperire nemmeno le risorse Quindi facciamo le cose indispensabili Che oggi nessuno ha mai fatto Dopodiché affronteremo la fase 2 Che è quella del reperimento delle risorse Però è un tema importante Perché effettivamente i camion Le merci fanno fatica a raggiungere Perché ci sono tutta una serie di vincoli Tra pianengo, campagnola e cremosano E vogliamo provare a superarli Certo E invece parliamo dell'Expo Che ormai è alle porte È tutto pronto? Beh io direi che il lavoro Che si sta facendo è tantissimo Innanzitutto una premessa Noi dobbiamo partecipare Noi siamo una roba piccolina nel mondo Ovviamente Il cremasco La provincia del Cremono È una formichina Però se tutte le formichine Fanno la loro parte Per fare in modo che Expo Vada al meglio Tutti ne traiamo vantaggio E quindi il sistema paese Davvero attraverso Expo Può davvero viverla come un'opportunità Quindi in quest'ottica Stiamo cercando di fare la nostra parte A Crema abbiamo circa 200 iniziative in programma Stiamo coinvolgendo tantissime realtà Ne faremo anche altre in corso d'opera Stiamo costruendo dei pacchetti turistici Per vendere, tra virgolette Promuovere il nostro territorio Attraverso un'idea non certo originale Nel senso che i pacchetti turistici Non sono originali Però mettere insieme l'idea Dei pacchetti turistici Con quello che offre questo territorio Dal punto di vista dei percorsi ciclopedonali Dei percorsi religiosi Degli impianti sportivi Dei monumenti, delle mostre Delle cose anche culturali Che si possono vedere Facciamo una cosa che questo territorio Non ha mai avuto Quindi mettere insieme queste due cose Attraverso i pacchetti Serve per promuovere il territorio E provare a venderlo È un punto di partenza Ma non è un punto di finale Nel senso che il grosso del lavoro Che stiamo facendo Vogliamo farlo partire poi dal primo di novembre Cioè il giorno dopo che Expo è finito L'Expo è un'opportunità Ma ha una fine Noi dobbiamo cogliere l'opportunità Per iniziare dal primo di novembre Un cammino E quello che stiamo facendo Stiamo organizzando davvero tantissime cose Saranno sei mesi In cui Crema davvero Avrà una vivacità Molto più forte Importante Rispetto alla solita vivacità Per cui è riconosciuta La nostra città E quindi speriamo Di andare in questa direzione E coglierne i frutti Infatti questi pacchetti Si potranno trovare Su un sito internet Che la gente potrà acquistare Direttamente online Assolutamente sì Turismo Crema.com E per chi è all'estero Visit Crema.com È un sito Che non era mai stato fatto prima È un sito dove attualmente Ci sono questi pacchetti Si possono andare a prenotare Attraverso le agenzie di viaggio Che abbiamo coinvolto Che fanno un po' poi Da cabina di regia Rispetto poi A tutte le iniziative O le varie dislocazioni Tra ristoranti E albergatori Però è un sito Che poi dal primo di novembre Sarà la finestra sul mondo In cui Crema si affaccia O il mondo si affaccia su Crema Ma io attenzione Quando parlo di Crema Parlo di Cremasco Perché non c'è Crema Senza il Cremasco E non c'è Cremasco Senza Crema Per me questo È un principio Sul quale porto avanti Tutte le questioni Che ho sul tavolo E invece Visto anche l'Expo La Paolese Com'è la situazione? Sarà pronta? Beh mi pare Che è notizia Di pochi giorni fa Che il 16 giugno Sarà consegnata A tutto È il termine Diciamo così Di consegna dei lavori Quindi Non sarà pronta Per la prima di maggio Purtroppo Sarà pronta Per la metà di giugno Quindi comunque Quattro mesi ulteriori Di Expo Ci sono È bene Quindi mi pare Che sia Un buon collegamento Anche da Crema Un buon collegamento Che arriva vent'anni dopo I nostri collegamenti Si risolvono sempre Dopo vent'anni Oggi La priorità Non è più la paolese Bene che si concluda Ma non è più la paolese È il collegamento Con Milano Attraverso i treni Purtroppo La regione Si fossilizza Sempre Sulla strada E sul cemento Ma oggi Le priorità sono altre Sono soprattutto Il ferro E quindi Anche l'intercambio Ferrogomma Potenziare I pullman E farli funzionare E utilizzare di più E collegare davvero E far funzionare I collegamenti Con i treni La nostra tratta ferroviaria È un disastro Invece Dalla Brebemi La regione Doveva puntare Sulla tratta ferroviaria Soprattutto Il sud Lombardia Su quello Ancora Non sappiamo nulla Per quanto riguarda Il prolungamento Della metropolitana Da San Donato a Paolo Cosa ne pensa? Io penso Che sia una cosa da fare Penso che sia una cosa da fare Ho firmato le petizioni Stiamo anche come amministratori Stiamo sostenendo le iniziative Le raccolte firme Che si stanno facendo Mi auguro che si possa fare Non è Cattaneo Il presidente del Consiglio regionale È venuto a Crema Dicendo Qualche giorno fa È impossibile È un po' una cosa da non fare Io credo che invece Non sia così impossibile Mi pare che l'opera Costi 800 milioni di euro Di cui il 60% Lo deve mettere lo Stato Significa che 300 milioni di 800 Lo devono fare gli enti locali Con la regione È una cosa che credo Che si possa fare Chiedendo alla regione Uno sforzo maggiore Rispetto ad altre scelte E le prossime elezioni Il sindaco Stefania Bonaldi Ha proprio detto A TRS Che sarà disponibile In una nuova elezione Lei cosa ne pensa? Beh io credo Che Stefania Bonaldi In questi tre anni Abbia fatto molto bene Per questioni di merito E di metodo Metodo perché Non ha lasciato indietro Nulla Tutte le questioni spinose Che ha ereditato E che abbiamo ereditato Lei e noi le abbiamo affrontate Le stiamo ancora affrontando Non è un sindaco Che si nasconde Non è un sindaco Che mette la testa Sotto la sabbia È un sindaco Che affronta È un sindaco Che risponde A tutte le persone È un'amministrazione La nostra Che cerca di rispondere A tutte le persone Credo che sia La cosa più faticosa Non troverete mai nessuno Che può dire Che non ha ricevuto Una risposta In un senso In un altro E di merito Perché Un po' di soluzioni Sono state messe sul tavolo Il tema degli stalloni È stata bloccata Con questa amministrazione Seppur sta andando a rilento Anche tutta l'organizzazione Il tema dell'ospedale Si sta affrontando Con questa amministrazione La caserma dei vigili del fuoco Ha trovato una collocazione E una risoluzione Con l'amministrazione Di Stefania Bonaldi Il canile Di cui si parlava da anni Ha trovato una soluzione Attraverso l'amministrazione Di Stefania Bonaldi Questi sono alcuni temi concreti Di respiro territoriale E poi ci sono le questioni Di tutti i giorni All'interno di ogni quartiere Lei gira dappertutto Va, risponde E credo che sia Un sindaco Che in tre anni Abbia già fatto tanto Che nei prossimi due Farà ancora dei più I risultati si vedranno E poi un'amministrazione Quella guidata da Stefania Che sta immaginando La crema del futuro Dal punto di vista Dell'illuminazione pubblica Stiamo facendo Dei grandi passi in avanti Stiamo facendo il PRI Che è il piano Di regolamento Di illuminazione comunale Che nessuno aveva mai fatto Stiamo facendo il PUMS Il piano urbano Della mobilità sostenibile L'ha fatto solo Milano In regione Lombardia Esattamente una settimana Prima che il consiglio comunale Di crema lo deliberasse Siamo la prima città Che ha aperto Un canale commerciale Direttore con la Cina Siamo la prima città In Italia E questa è una notizia Che farà Che rivedrà Tutti gli impianti Di telelettura Del gas E mi auguro Anche dell'acqua Con le radiofrequenze In città Cioè il tecnico Non dovrà più entrare Nelle case delle persone Questo vuol dire Anche sicurezza Sono tutti i temi Che stiamo affrontando I riscontri ci sono E se Stefania Bonaldi Tra due anni Si candiderà Io le darò una mano Perché è un sindaco Che merita E soprattutto crema È una città Che merita E invece un altro progetto Molto importante È Equazioni Giusto? C'è stata la prima giornata Come è andata Quali sono le altre date? Beh Equazione è un'idea Che non è Dell'amministrazione comunale Di crema Ma come dicevo prima La nostra è un'amministrazione Che cerca di dare risposte E qualunque persona O realtà Ha delle buone idee Ci si mette intorno al tavolo Per farle Per concretizzarle Nasce dalla lega ambiente Dal circolo Lega ambiente Alto cremasco E dal circolo Della FIAB Federazione Italiana Amici e Bicicletta L'idea da cosa nasce? Ci sono delle situazioni critiche Di abbandono dei rifiuti O di sporcizia in città È evidente Non si può sostenere il contrario E allora Queste persone hanno detto Ma ci mettiamo in ballo Le adottiamo Tra virgolette E ogni seconda domenica del mese Le puliamo Io ho detto Benissimo Organizziamole Le abbiamo chiamate equazioni La prima equazione Si è tenuta nel mese di marzo È andata benissimo Stanno partecipando anche delle scuole La seconda si terrà Se non sbaglio Il 12 di aprile Domenica 12 aprile Tra l'altro in contemporanea Faremo un'altra giornata ecologica Dove chiuderemo il centro Alle auto Ci sarà un'iniziativa Che si chiama Bici al centro Dove sarà tutta un'esposizione E una manifestazione Dedicata alle biciclette In centro storico E questo Equazioni Organizzate Dalle gambiente FIAB Con il comune di Crema Si occupano Della stazione ferroviaria Della passeggiata Lugoserio Della corte degli archi E dei giardini pubblici Alcune situazioni critiche Perché effettivamente Sono di passaggio E quindi tenerle pulite Secondo me È un'iniziativa bellissima E chiedere a ognuno di noi Una piccola equazione Ogni giorno Dal pulire Davanti a parare la propria casa Tenere pulito Il proprio pezzettino Fuori dal proprio negozio Non è un chiedere Un qualcosa di Se noi tutti Facciamo un pezzettino Per tenere pulita La nostra città Il comune di Crema Deve faticare meno Spende meglio i soldi Perché ogni volta Che qualcuno sporca per terra O abbandona un rifiuti Non è il comune Che non pulisce Ci sono cittadini Maleducati Che sono comunque Una fetta minore E noi dobbiamo Mettere in campo Iniziative Anche di sensibilizzazione E le equazioni Vanno anche in questa direzione Grazie mille Matteo Piloni Grazie per essere stati Con noi In questa puntata Di Storie e persone Ricordo che Per tutti i comuni Che vogliono partecipare Possono chiamarci A numero 0363340500 Oppure a scrivere A ufficio stampa Chiocciolatrstv.it Grazie Un bacio Nicole Ciao Ciao